Silvio Formichetti IN è la mostra personale che riporta l'artista arruzzese in Veneto dopo diversi anni. IN sta per informale, ossia la tecnica pittorica attraverso la quale l'artista è stato riconosciuto negli anni sia a livello nazionale che internazionale. La partecipazione al Padiglione Italia della Biennale di Venezia, curata da Vittorio Scarbi, fu un esempio del suo percorso e una delle infinite tappe che comunque l'artista sta portando avanti con grande energia e forza. 33 opere vi riconducono a quello che fu negli anni 50, quell'atmosfera, quella ricerca dedicata all'arte attraverso la tecnica informale che dagli Stati Uniti, dalla Francia, poi si propagò in tutto il mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.